Salve ragazzi, benvenuti alla puntata 0 di Rock Stories & Books. Cos'è Rock Stories & Books? Rock Stories & Books è uno spazio dove parleremo di rock, inteso come attitudine e stile di vita, dei suoi personaggi, di chi è passato alla storia e di chi semplicemente ha vissuto il rock come colonna sonora della propria vita e della sua comunicatività, le sue parole, i suoi valori e i suoi simboli. In ogni puntata tratteremo argomenti e libri o passi di essi da cui prenderemo spunti per le nostre riflessioni. Questa è l'idea di base, ma sarebbe bello interagire e arricchirci a vicenda scrivendomi i vostri pensieri, i vostri interventi, le vostre opinioni e considerazioni che, oltre a venire citati in ogni puntata successiva, sono preziosi i contributi per costruire insieme questo spazio. Ma partiamo questa avventura iniziando dal più celebre giornalista musicale rock, purtroppo in Italia se mi sconosciuta è più, Lester Banks ed un suo libro, Guida ragionevole al frastuono piatroce. Guida ragionevole al frastuono piatroce è un'antologia che racchiude i migliori scritti di Lester Banks, in cui la critica vera e propria si mischia con reportage da backstage, ricordi personali, riflessioni intime e visioni lisergiche. È un manifesto di vita rock, un insieme di confessioni personali, di un'anima indomabile ed integra. Cinico, coerente, non inclina al compromesso, armato di parole taglienti, mischia critica musicale ad una realtà osservata e vissuta in maniera totalmente anticonvenzionale. Lester Banks si è visto passare davanti la controcultura degli anni Sessanta, raccontando quest'epoca leggendaria della musica e della cultura contemporanea in questa raccolta che lo riscatta dall'oblio. Guida ragionevole al frastuono piatroce mi ha colpito molto, nonostante la sua non facile lettura, per le idee e le salde prese di posizione dell'autore, contro la musica come industria del più fico, e a pro del rock per come dovrebbe essere, cioè vita, libertà e festa, e non un movimento che crea dei e celebrità. A riguardo Banks scrive E ancora L'ego non sarà forse la parola più fantastica del ventesimo secolo, ma di sicuro è la sostanza che avvelena gli organi vitali di ogni divo del pop, che dovrebbe riuscire ad ammettere che gli altri umani esistono e possono essere amati per qualcos'altro, non soltanto per quanto alimentino il proprio narcisismo. Se il rock è davvero una forma di arte democratica, allora la democrazia bisogna cominciarla a casa propria, e cioè abbattere quei muri eterni tra artisti e pubblico. L'elitarismo deve finire, bisogna umanizzare i divi, smitizzarli e trattare il pubblico con più rispetto, altrimenti è tutta una truffa e la musica diventa una cosa morta. Ecco perché la maggior parte del rock ha perso la sua creatività, si è isolato completamente dal mondo reale di esperienze quotidiane, esemplificato dai propri fan. Adesso, interrompendo momentariamente la lettura, mi soggio spontanea una domanda. Secondo voi, perché il rock e la musica in generale, col passare degli anni, ha perso la propria creatività invece che incrementarla? Ora, tornando all'Ester Banks e alla sua guida ragionevole a frastuono piatroce, mi è compasso. Tutte quelle prime canzoni sul rock and roll erano movimenti successivi di una suite in composizione, che in realtà non era altro che una festa gigantesca la cui ambizione collettiva era semplice, far continuare la festa e ballare e far bardoria, farla durare decenni e fermarsi solo per l'ultima bomba, o qualche turbine tecnologico di beatitudine sonica, che finalmente avrebbe risucchiato tutte le città fino a farle scomparire. Perché la festa era l'unica cosa nella nostra vita a cui potevamo aggrapparci, credere e da cui potevamo dipendere. Una pazza fonte di giovinezza e vitalità, che ci teneva in vita tanto quanto qualsiasi medicina avessimo mai preso, ci sosteneva senza travolgerci e ci dava un insieme di metafore attraverso le quali rinfrangere preoccupazioni che non si potevano estendere all'infinito, nonché capire qualcosa di più su noi stessi. Per Lester Banks il rock era fonte di vita, eterna giovinezza, ma anche originalità, autenticità, uno dei mezzi con cui poter mettere a nudo paure altrimenti indicibili e angosce esistenziali e personali, ricettacolo di anime primitive spontanee. Scrive dai Clash a Lou Reed, da John Coltrane a Jethro Tull, da Barry White a David Bowie, ma ciò che vorrei citarvi sono dei pezzi su Iggy Pop e gli Stooges. Banks scrive, come la maggior parte degli artisti veramente originali, gli Stooges hanno dovuto sopportare una nutrita dose di ingiurie, scherno, sussiego, una quasi totale osticità da parte della critica. Solo uno su 20.000 ha il genio sfacciato di Iggy Pop ed è disposto a cantare dei suoi complessi adolescenziali in modo talmente onesto che ti fa male, imbarazzando da morire metà del suo pubblico. Quella che abbiamo davanti, Iggy Pop, è una persona che si sente profondamente non viva o al contrario, viva in un modo talmente grezzo e del quale è prigioniera da provare ogni sentimento sotto forma di dolore, ma continua lo stesso ad inseguire il sentimento, nei modi più apocalittici che in verità sono gli unici modi che l'artista riesce a capire. Vorrei concludere questa puntata zero, questa puntata di prova di Rock Stories and Books in cui abbiamo parlato di Lester Banks e del suo modo di interpretare la vita totalmente rock, sia per la sua profonda attitudine, sia per l'estrema vicinanza lavorativa e passionale, con una frase di estrema bellezza che lui stesso scrive. Naturalmente è ancora tutto un sogno, ma come credete che comincino le grandi rivoluzioni se non dai sogni? di Rock di Rock di Rock